Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In primo piano i numeri di giornata sul fronte Covid con la regione che ha vato a registrare 19.829 nuovi positivi con qualche leggero calo rispetto a ieri che aveva fatto segnare una giornata da 24.312 casi, un dato che porta al numero complessivo degli infetti da inizio pandemia a 1.083.000, sempre alto il numero delle vittime 36 per un totale di 13.044 decessi a riferirlo al bollettino della regione. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 pazienti in area medica, 24 in più e 189, 5 in meno in terapia intensiva. Sono state invece 34.251 le dosi di vaccino inoculate, il dato porta al totale a quota 10.210.000. Veneto e Sanità Veneta che si interrogano e piangono per la scomparsa del dodicenne Carlo Alberto Conte spirato nella tarda serata di ieri. La nostra comunità vive un momento di grandissimo dolore, abbiamo sperato fino all'ultimo e lottato assieme a lui e fatto tutto il possibile per salvarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e ora non possiamo che essere vicini in un grande abbraccio collettivo alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere questo splendido ragazzo. Queste le parole del direttore generale dell'azienda sanitaria 2 Francesco Benazzi che si è fatto interprete del dolore che attraversa tutta l'azienda per la morte del dodicenne Padovano colpito domenica mattina da un arresto cardiaco durante una gara di corsa a Vittorio Veneto. Su indicazione dei sanitari di intesa con la famiglia e con il presidente del Veneto Zaia che ha sempre seguito personalmente l'evolversi della situazione verrà effettuato il riscontro diagnostico per chiarire con la massima precisione le cause del decesso. Il cuore verrà inviato all'equipe della professoressa Basso, docente ordinaria all'Università di Padova e tra le massime esperte a livello mondiale di cardiopatia e morte improvvisa. Ieri sera all'ospedale di Treviso, ricordiamo il cuore del ragazzo ha smesso di battere, abitava in Prato della Valle a Padova, distante poche centinaia di metri dalla sede delle Fiamme Oro, il secondo reparto della Mobile della Polizia di Stato, uno studente modello che frequentava la seconda media presso la scuola Giovanni Pascoli. A proposito del governatore Luca Zaia, ancora presente a Roma per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica Italiana, oggi come vi abbiamo raccontato c'è stata una fumata nera anche al terzo scrutinio. Il governatore si è fatto interprete anche della posizione all'interno del centro-destra, allora andiamo ad ascoltare le sue parole che vedono il governatore sperare ancora in un certo senso. Mario Draghi. Per ora ci sono questi tre nomi, a casellato e la seconda carica dello Stato. Dall'altro devo anche dire che questa votazione è l'ultima poi con questo quorum e dopodiché si passa a un quorum che è abbassato e quindi cambierà anche magari l'atteggiamento dei grandi elettori. Da ieri cosa cambia? Cosa è cambiato? Oggi cosa succederà? La liturgia io l'ho già vissuta in altre occasioni, diciamo che finché non si abbassa il quorum oggettivamente dei grandi movimenti non ci saranno. Adesso c'è questa terna di proposte del centro-destra, vedremo di capire cosa accadrà dall'altra parte della barricata e si spera sempre di avere un presidente della Repubblica che sia eletto ad ampio consenso. Dopodiché l'elezione dei 12 capi di Stato fino ad ora ha dimostrato però che il consenso è stato molto variegato. C'è il rischio che si arrivi la settimana prossima? Io spero proprio di no, spero che si chiuda questa settimana, anzi nelle prossime ore. Questo è l'ospicio che hanno tutti i cittadini, che abbiamo tutti noi cittadini, anche perché penso che se si protrae a lungo rischerebbe di essere anche uno spettacolo poco edificante. Per il centro-sinistra, sarà oggi l'incontro con il centro-sinistra? Guardi, questo non glielo so dire, perché per noi cura i rapporti direttamente Salvini, questo non glielo so dire. Siete a lei temi per la tenuta del Paese, per il fatto che se il governo comunque cade poi tre mesi per riformarlo, tutte queste cose la spaventano o secondo lei si troveranno? Siamo in un momento molto critico, la pandemia si fa ancora sentire, siamo in fase di emergenza fino al 31 marzo, vedo i dati anche del mio Veneto, questa mattina 21 mila contagiati, 19 mila scusi contagiati, siamo a 2 mila persone ricoverate, delle quali quasi 200 in terapia intensiva, la pandemia c'è ancora e pesa moltissimo il carro delle bollette, pesa moltissimo le nostre imprese il tema del costo dell'energia che costringe ormai molte imprese a fare i fermi produttivi. Insomma la situazione non è delle migliori, se fosse una congiuntura strale è negativa. Io spero proprio di no, anche perché Draghi ha dato uno standing internazionale a questo Paese che mai abbiamo avuto, sta seguendo il Paese in un momento di grossa difficoltà, si è messo a disposizione e questo gli va riconosciuto, spero proprio di no. E a proposito del governo e degli impegni per rifinanziare le varie iniziative anche per quanto riguarda il Veneto, 905 milioni di euro nel periodo del 2022-2026 saranno destinati per progetti di rigenerazione urbana in tutta Italia. Al territorio della città metropolitana di Venezia ne dovrebbero essere destinati 63,4 suddivisi in 39 progetti distribuiti in 14 diversi comuni. Ad annunciarlo è stato il sindaco metropolitano di Venezia Luigi Brugnaro che ha commentato la novità parlando di buone notizie da Roma e ringraziando il ministro dell'Economia e delle Finanze Franco, il premier Draghi. Per quanto riguarda Venezia in particolare, i finanziamenti riguarderanno principalmente la terraferma, la demolizione di case abbandonate, una realizzazione di una piazzetta con skate park a Marghera, la riqualificazione degli spazi di piazza a mercato, sempre a Marghera, il completamento del restauro delle casemette del Forte, il recupero di Forte Manin e ancora le aree degradate del parco Bissuola, poi un ampliamento previsto per il parco di San Giuliano con un'ulteriore area di 6 ettari. A Porto Gruaro invece nel Veneto orientale c'è stata la riqualificazione di Viale Trieste, una valorizzazione dell'area verde di Via Valle, sul ring urbano l'efficientamento dell'illuminazione del centro storico. Il Ministero delle Infrastrutture invece ha confermato oggi il cronoprogramma del completamento del MOSE a 18 mesi dalle opere civili ed elettromeccaniche a partire dal prossimo mese di marzo allegato al settimo atto aggiuntivo della convenzione tra il provveditorato alle opere pubbliche del Veneto e il concessionario consorzio Venezia Nuova, invitato dalla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Un tempo più lungo ha precisato il Ministero, previsto soltanto per quelle opere che, come la conca di Malamocco, hanno subito danni dovuti a cause esterne. L'atto aggiuntivo stabilisce che la fase di avviamento, ovvero i testi collaudi e la consegna allo Stato, già iniziata, avrà una durata complessiva di 4 anni. Data la caratteristica sperimentale del MOSE, questa fase proseguirà anche dopo che l'opera sarà completata. I cantiere, aggiunto il Ministero, potranno poi riaprire, una volta risolta la fase di criticità finanziaria che sta attraversando il concessionario Venezia Nuova. Secondo l'Associazione Federalberghi Caole, invece il caro Bollette colpirà duramente le strutture alberghiere. Graditi ristori, approvati dal Governo, ma viene richiesto allo Stato un'opera supporto per l'intero settore. Caro Bollette di energia elettrica e gas, secondo Federalberghi Caole le recenti misure adottate dal Governo per le imprese non bastano. Secondo le stime eseguite con la collaborazione della Società di Consulenza per la fornitura Enord Energia, nel corso del 2022 il costo del consumo per le utenze di energia elettrica e gas per singola presenza turistica all'interno di un albergo arriverà a costare circa 1,2 euro in più rispetto al 2021. Si parla di un aumento per la luce di euro 0,81 e per il gas di euro 0,39 a presenza. Stimando per quest'anno la presenza di 1,2 milioni di turisti per il comparto alberghiero, gli alberghi di Caole potrebbero arrivare nella totalità a pagare un conto di circa 1,4 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, derivante dal caro Bollette. La neopresidente di Federalberghi Caole, Kei Turchetto, ha spiegato i rincari per le forniture rischiano di colpire duramente il nostro comparto, ancora condizionato dalle preoccupazioni legate all'emergenza sanitaria. Il turismo è la chiave per la ripresa economica italiana e lo Stato deve fare di più per non affossare un comparto che ha fatto molti sacrifici a seguito dell'insorgere della pandemia. E a proposito delle difficoltà per il settore alberghiero e ricettivo, ma anche per quello commerciale, andiamo a vedere in queste immagini girate stamattina a Venezia, tra le cale e i campielli del centro, la situazione con i commercianti che soffrono l'assenza di turisti, con per lo più lavoratori, camminare per strada non ci sono acquirenti all'interno delle boutique più famose al mondo, le vetrine sono illuminate, i prodotti all'ultima moda attendono l'arrivo dei clienti e questi appunto fanno fatica ad arrivare per i blocchi, anche ai trasferimenti internazionali relativi alle misure pandemiche, con ancora dunque grande sofferenza per uno dei settori trainanti dell'economia veneziana e anche per questo le associazioni di categoria continuano ad invocare misure specifiche per sostenere queste attività e naturalmente anche favorire poi una più rapida ripresa possibile del turismo e degli arrivi a Venezia. La cronaca ora, un cadavere ha fiorato stamane nelle acque della laguna antistante in Lido di Venezia, il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno provveduto ad avvertire la polizia e i vigili del fuoco. Il cadavere appartenente ad un giovane uomo è stato notato sotto un ponte tra via Rovigno e via Ciprio, i vigili del fuoco intervenuti con i sommozzatori, il personale del locale di staccamento hanno recuperato il corpo che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento. Ci spostiamo ora nella banaca trevigiana, si è insediato da pochi giorni, a breve terrà un incontro con le forze dell'ordine, alcune cariche politiche e il nuovo prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Tra i temi principali del vertice le problematiche legate alla pandemia, i furti e le morti sul lavoro. Si è insediato da alcuni giorni il nuovo prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Nel corso di questo primo periodo ha incontrato il presidente della provincia e diversi sindaci, oltre a familiarizzare con la città. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro con il presidente della provincia, il sindaco di Treviso Mario Conte e le forze dell'ordine, per fare il punto su quelle che Sidoti ha individuato come priorità. Un primo tema sarà quello della pandemia, con riferimento ai diversi episodi di atti vandalici e minacce a cui si è assistito negli ultimi mesi. I covid point continueranno a essere sorvegliati e chi dissente dalle leggi potrà manifestare pacificamente. Un altro tema sarà quello delle rapine e dei furti, anche se il prefetto ha sottolineato come siano crimini che generano clamore e allarme sociale, ma che il tasso di delinquenza nel Trevisiano, ivi compreso quello con riferimento a questi particolari reati, è in costante diminuzione. Terzo tema caldo sarà quello delle morti sul lavoro, per cui Sidoti ricorda che nel precedente incarico a Verbania aveva attuato delle iniziative volte alla prevenzione, coinvolgendo sindacati, associazioni di categoria, ma anche le scuole. Oltre a questo, il prefetto ha poi sottolineato come saranno importanti i controlli per verificare che nelle aziende siano rispettate le normative di sicurezza. Per quanto riguarda il bellunese, invece, ci sono novità in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi ho riunito i rappresentanti delle regioni e delle province autonome interessate dall'organizzazione dell'evento per discutere della ripartizione dei 324 milioni stanziati in legge di bilancio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, le strade, le ferrovie e il trasporto pubblico locale collegati all'evento olimpico. A parlare, il Vice Ministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli, al termine di un incontro ha avuto stamani al Ministero delle Infrastrutture con il Presidente della Lombardia Fontana, del Veneto Zaia, della provincia autonoma di Trento Fugatti e il Vice Presidente della provincia di Bolzano Daniel Altrader. Ciascun attore istituzionale ha detto Morelli ha rappresentato le esigenze dei propri territori unitamente alle proposte di interventi da finanziare. Ho quindi condiviso con i presenti la necessità di rivedere i costi stimati delle opere alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime che rischiano di complicarne la realizzazione. L'amministrazione comunale di Belluno invece fa un primo bilancio delle passate festività, dati in crescita, conferma di come nonostante la pandemia il turismo si è in ripresa. La pista da pattinaggio sul ghiaccio resterà allestita in piazza Duomo fino alla fine del mese. L'agrimercato e le casette del brulè invece sono rimaste attive nelle settimane centrali delle festività. Il bilancio dell'amministrazione Massaro sui numeri di presenze e arrivi dello scorso periodo natalizio nel capoluogo dolomitico è positivo e trova conferma nel numero di accessi all'ufficio turistico in centro storico. Nel mese di dicembre 323 persone si sono rivolte allo sportello per chiedere informazioni contro le 147 dello stesso periodo del 2020. Ne parla l'assessore al turismo Yuki Demilia. Il bilancio di questo Natale è sicuramente positivo. L'agrinatale, ovvero il mercatino organizzato da Coldiretti con i produttori locali, agricoli e artigiani, è stato un successo. Siamo ovviamente ancora in attesa dei dati ufficiali turistici, ma il sentore è sicuramente positivo. C'è stato un movimento interessante e questo ci viene confermato anche dai dati di accesso all'ufficio turistico. Anche la risposta degli operatori è stata positiva. Le nostre aziende sono rimaste molto soddisfatte e questo è sicuramente un indicatore molto importante per il nostro territorio. Quindi la scelta di organizzare un mercatino incentrato sui prodotti locali è risultata vincente. Infatti anche le analisi che sono state diffuse sulla tipologia di acquisti per i regali natalizi conferma che quest'anno c'è stata un'attenzione particolare ai prodotti enogastronomici e soprattutto ai prodotti locali. Anche la pista di pattinaggio è stata molto apprezzata sia dalle famiglie che dalle scuole nel periodo natalizio ma anche dopo. La pista sarà fatti aperta per tutto il mese di gennaio e tutte le mattine è già prenotata dalle scuole un'indicazione che è un servizio molto richiesto dalla città, molto apprezzato. Ora come di consueto ci andiamo a far raccontare alcune delle anticipazioni sulle notizie che troverete domani in edicola sulle pagine del Gazzettino in collegamento con la redazione centrale con Vittorino Franchin. Buonasera. Buonasera a te e telespettatori. Allora domani sul Gazzettino per quanto riguarda il Covid siamo andati a vedere quanti ragazzi in Veneto sono ancora a casa a causa della DAD e dei focolai che sono scoppiati nelle scuole. Di fatto le scuole colpite dal Covid registrano più o meno un terzo degli studenti a casa. E sono giornate difficili tant'è che forse dovrebbero cambiare anche le regole per quanto riguarda la scuola. Questo dipende dalla prossima decisione del governo. Per quanto riguarda invece le notizie di cronaca, notizia anche appena giunta, la conferma in appello del processo sui casalesi di Eraclea, confermate condanne per l'ex sindaco Graziano Peso e anche per gran parte degli imputati. Per quanto riguarda invece la tragedia della corsa campestre di Vittorio Veneto di domenica scorsa il piccolo Carlo Alberto sarà sottoposto ad autopsia e l'inchiesta praticamente da parte della procura trevigiana viene vista come un atto dovuto. Un'altra notizia invece riguarda il Mose. Per quanto riguarda i lavori bisognerà, la fine dei lavori bisognerà attendere ancora per un anno e mezzo quindi verso oltre la metà del 2023 i tempi di fatto si allungano, continuano ad allungarsi, manca sempre qualcosina. In compenso invece arrivano i 900 milioni per il piano di rigenerazione urbana e che faranno fallici sicuramente molti comuni del Veneto che in prima battuta erano rimasti esclusi diciamo dai fondi del PNRR. Queste sono le principali notizie che troverete domani in edicola e già stasera per gli nostri lettori del digitale. Grazie, grazie, buon lavoro ai colleghi del Gazzettino. Noi siamo in chiusura e come di consueto vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo dedicate al Veneto. Poi rimanete su Udinese TV, ci sono i grandi telefilm questa sera. Amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebimetro da Daniele Berlusconi. Nella giornata di giovedì poche variazioni con ancora l'anticiclone dominante su tutto il nord Italia. Per quanto riguarda la nostra regione avremo però delle nebbie piuttosto diffuse sulla pianura anche persistenti per gran parte del giorno che manterranno un clima decisamente più freddo e umido rispetto alla montagna dove al più transiterà qualche velatura ma senza conseguenze. Vedete infatti le temperature che non supereranno i 5-6 gradi nei valori massimi in presenza di nebbia. Anche nei giorni successivi poche variazioni ma per tutti i dettagli vi rimando alla nostra app gratuita di Trebimeteo.